Sforza 2015 con l'Italia Sforza 2015 con l'Italia Welcome in Italy Ho fatto il start dall'inizio perché ho pensato di interviare prima del show Questo è il tuo primo tempo in Italia Cosa aspettavate di oggi e come ti senti ora dopo il show? Beh, credo che abbiamo aspettato molto di freddo e abbiamo ricevuto questo ma comunque speriamo che l'accepzione del crowd e l'intensità del crowd sarà come come sempre e è stato quindi siamo davvero felici che abbiamo avuto l'opportunità di giocare è stato un'ottima giga credo che il mood è stato fantastico il crowd era più perfetto come abbiamo pensato quindi abbiamo aspettato che siamo un'ottima band in Italia ma abbiamo ricevuto molto molto di amore di il crowd quindi abbiamo divertito questa cosa assolutamente ti sei la seconda band un'angaria band che ho interviato l'anno scorso 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 un'angaria così modo come si Sir l'anno scorso l'anno scorso l'anno scorso dell'anno scorso l'anno scorso l'anno scorso l'anno scorso che è ancora più importante che la scena di metà in Ungarnia anche se non ci sono più usciti con la scena di metà sta diventando più grande oggi qualche volta è stato molto piccolo ma oggi ci sono molte band e molte stili quindi è crescita è crescita è crescita e soprattutto con la metà in Ungarnia la musica tradizionale o la musica di Carpathia è molto riche e molto vecchia e quindi è molto facile a fare buona metà in Ungarnia o due cani di Ungarnia o due cani 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 e questo è Mochi è il nostro gitarista o due cani o due cani o due cani Dariad è una band folk metal che cantano in tua lingua e parlano di tua tradizioni ma il folk metal durante i 10 anni ha cresciuto in diverse direzioni e noi abbiamo trovato in quel cani in quel cani il folk metal cosa pensi di questa evoluzione o involuzione del folk metal ci sono diverse approcci in Ungarnia in Ungarnia e ovviamente vediamo paralleli all'Europa e all'Europa quindi ci sono alcuni press organi in Ungarnia che identificano folk metal con un tipo di nazionale musica ma questo non è il caso è solo la cultura la tradizione la lingua la tradizione la herita la herita la herita di storie legendi folk musica e mythi che vogliamo lavorare nella nostra musica e che crediamo è meglio e che è più importante per la nostra musica ma sì ovviamente ci sono alcuni band anche in Ungarnia ma anche in ogni paura che tentano deformare questa direzione e non in la migrazione ma non che non parliamo politica perché questa band non è politica ma non importa non ci piace le tradizioni le tradizioni le tradizioni le tradizioni le tradizioni le musica sono messe le tradizioni e è migliore Bocchi, ci vuoi aggiungere? È bene. È bene. È bene. È bene, è bene. È bene. È bene. Il tuo albino è Aroni, contiene i poemi di Janos Aroni. Cosa hai deciso di realizzare un progetto così ambito? questo progetto è stato un buon progetto in mia area. Il Janosz Oroni è davvero uno dei più conosciuti, più importanti e uno dei più elusivi poeti e scrittori della cultura hungariana. Penso che è vero di dire che è stato un hungariano. Questo era il hungariano Shakespeare. Perché il suo senso con le parole e il suo vasto compagno della lingua hungariana era un'imprecedente. Ancora e da poi. E perché i suoi canali classiche sono molto musicali il nostro cantante, guitarista e songwriter Andriš che non potrebbe farlo, infortunatamente. Il suo primo idea era nel 2002. quando la lingua, quando la lingua, quando la lingua, quando la lingua, quando la lingua in 2001 o 2000 o 1000 anni fa. Una delle sue più idee era fare una trilogia di una delle ballade di Oronjan. Il bar di Wales. E' molto simile. Vesce? Vesce. 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 Non è solo di Vesce. Non è solo di Vesce, è vero. È solo di Vesce. 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 Vesce è molto simbologico per la lingua di unico ingape negli anni. Era una sorta di racconti di due due scarici producto Mochila di umano negli anni. In unico allo in unico allo in Ungerico, e in unico allo in una lingua allo in unico allo. In unico allo nel Dio, in unico allo in unico allo. Con unico allo! Con unico allo. Con Edward Belong... Sì? edward the long strength? edward the long strength? e dopo questo perché abbiamo visto che la crowd stava lo sapevano i loro piacciono la prima demo e abbiamo stabilito come band e non ci siamo mai e abbiamo pensato che in più o meno faremo un album conceptual solo sull'Arania e questo è il risultato ma è ovviamente l'idea dell'Andris hai parlato grazie ultima domanda abbiamo visto un album combinazione ma il tuo l'altro è Napis e Havar fa tre anni e cosa sull'album il prossimo Dariad è meglio di la discografia questo questo è il nostro migliore penso è ovviamente diciamo ma in questo caso è davvero certo perché questo è un altro mille della storia della storia musicale è un tipo di sviluppo musicale abbiamo iniziato come un tipo di potente si poi stai diversi questo è ridotto in questo periodo in questo periodo molto e abbiamo fatto molto di è penso I think it's the best of the best workout, the best tunes, the best songs, the best whatever. It's, I mean, it's the best of the best. No, it is true. It is my opinion as well, and not only mine, but I think the whole ... I can speak for da nostra banda qui abbiamo fatto un'errore in una musica più potente di Dariyada in una cosa è presente presente di Dariyada la musica che è chiamata Aldash, che significa «blessing» e contiene molto potenti cose come ad esempio Selek, il quarto album dove abbiamo avuto un approccio più d'approcchia di heavy folk metal ma anche anche Igeret e Nopishternhov che sono sicuramente alcuni album folk metal ma è veramente qualcosa di nuovo e è nuovo perché il nostro livello è stabilito in tre anni ora tutti i miei membri sono familiari con la musica, con la crowd e con la sensazione di quello che facciamo ora questo album è un lavoro di una famiglia perché noi lavoriamo come una famiglia quindi tutti conoscono tutto da altri e se direi che ho bisogno di un altro drum per fare questa canzone e questo è come funziona e questo è come funziona e questo è come funziona Marti? Hai qualcosa che vuoi aggiungi o cosa vuoi scrivere un altro sms? Non, 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 non è bene con tutto ciò che abbiamo detto è bene sai che ha una piccola figlia si, si, si ha una piccola figlia quindi è un padre è un padre quindi è un padre è un padre molto orgoglioso si, ha bisogno di controllare la famiglia ovviamente ok, questo sarà il prossimo album il titolo è un padre è un padre è un padre è un padre ok credo che ho capito ok vogliamo dire salve ai nostri amici i nostri amici? Ciao! in nostro grande italiano in nostro grande italiano porca Madonna non lo so siamo molto scusati per svegliare no, no, no buongiorno 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 no, è buonanotte 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 no, 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 no è spagnolo ok, scusate non siamo i nostri non siamo i nostri che parlano italiano buonanotte buonanotte italiani buonanotte buonanotte e grazie per averci qui grazie mille grazie IRONFOX solidarieta FOSFES 2015